Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo insieme un'altra maglia retro, questa volta è della Juventus per la stagione 2014-2015. Ovviamente, l'avrete riconosciuta, è la maglia di casa. La maglia di un grandissimo campione, uno di quelli che secondo me è stato più determinanti di questi ultimi 15-20 anni. Tevez! Musica 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 La maglia è veramente molto bella, ovviamente da tradizione bianca e nera. Mi piace lo scudetto così brillantato, ma la cosa che mi piace di più è ricordare questo giocatore. Musica Che secondo me è straordinario. Ronaldo è un'altra cosa, ma tra i due, se devo dire la verità, la mia preferenza va per l'Apensi, che in quei due anni, purtroppo solo due anni, ha fatto sognare il popolo juventino. Il costo comunque lo vedete? Veramente molto basso, qualità ottima per una maglia fatta così bene e che arriva anche molto velocemente. Vi lascio ora alla parte finale, prima però, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Musica 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 Musica